le dinamiche politiche della modernità infatti lei la mette in relazione con la democrazia esattamente se non fosse così ci sarebbe da chiedersi perché mai la nostra costituzione democratica e antifascista nomina la sovranità con tanta solennità all'articolo 1,2 e questo non ha niente a che vedere con l'interpretazione xenofoba di destra che della sovranità danno alcune forze politiche semmai la vera domanda da farsi è come mai trovano tanto spazio le interpretazioni di destra reazionarie della sovranità le interpretazioni nazionalistiche della sovranità oggi fra le risposte c'è sicuramente il fallimento economico dell'Unione Europea questo è assolutamente evidente fasce amplissime di popolazioni dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti insomma stiamo chiamando dell'Europa hanno subito una crisi economica che è stata gestita malissimo in Europa è stata gestita attraverso politiche di austerità che l'hanno aggravata non ci è voluto molto perché si facesse due più due e si dicesse bene i nostri mali sono stati causati dall'Euro che è la come ha detto ieri tra l'altro Monti è ciò che dell'Europa funziona perché ricordiamoci l'Europa non è sovrana l'Europa è un insieme non sovrano infatti Galli quando lei parla di sovranità non necessariamente parla della sovranità italiana francese tedesca si può intendere sovranità europea dove finisce la sovranità nazionale e inizia quella europea oggi e come dovrebbe essere rispetto all'oggi? oggi non esiste sovranità europea la moneta però non è una roba banale no ma non è sovranità e infatti siamo in un un pass per questo perché abbiamo appunto abbiamo messo insieme una funzione sovrana cioè la funzione di controllo della moneta e abbiamo lasciato invece libere tutte le altre funzioni sovrane fondamentali le funzioni della politica estera dei singoli stati insomma per dire una battuta gli Stati Uniti d'America ai quali molti europeisti vogliono portare gli Stati Uniti d'America sono una struttura rispetto alla quale molti europeisti dicono bene la dobbiamo fare anche in Europa gli Stati Uniti sono d'America sono una unione federale sovrana di stati non sovrani non esiste una sovranità ma sarebbe d'accordo di fare gli Stati Uniti d'Europa? ma sa a parole a parole perché no il punto è il punto è come si fa se ci dà un obiettivo non si vuol dare è pensabile di darsi quell'obiettivo? ecco diciamo che è fra le cose più improbabili che ci siano il giorno d'oro è improbabile